Ciao a tutti, sono Rosario Privitera, capo aree della TSI Italia per il centro sud Italia e oggi siamo in contrada a Dirillo presso l'azienda Ignacolo per presentare una nuova varietà di ciliegino, il Durillo, si chiama così primo perché è nato in questa zona, zona di Dirillo, e secondo perché è veramente un pomodoro molto duro. A prescindere dalla durezza abbiamo una pianta che ha tutte le resistenze basiche che necessitano nel nostro areale siciliano e in più anche il Fusarium radicis ed è caratterizzato da un grappolo con un rachide molto spesso, un frutto tondo, duro e di calibro mai superiore a 30, di buon sapore e di una buona lucentezza. È sicuramente un grande produttore e molto resistente alle spaccature. In questa azienda è stato trapiantato il 24 di dicembre ma è un pomodoro che può essere trapiantato anche a settembre fino a tutto il mese di febbraio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.